Aumentano i controlli anti-covid a Taranto e scendono in campo anche le forze dell'ordine, lo fa sapere l'assessore alla polizia locale Gianni Cataldino, che ha partecipato ad una riunione convocata in prefettura mirata al coordinamento delle azioni svolte dalle istituzioni. Il dato epidemiologico fornito dalla ASL di Taranto, dichiara il Comune, pone la città e il territorio circostante in linea con la situazione nazionale. Un quadro che richiede massima cautela, un incremento dei controlli, soprattutto nei pressi delle scuole, negli orari di ingresso e uscita delle fermate degli autobus urbani ed extraurbani e dei pubblici esercizi, in particolare nelle ore serali. La polizia locale, in coordinamento con le altre forze dell'ordine, fa sapere che Cataldino ha già avviato i controlli nei pressi degli istituti scolastici cittadini. Sono stati divisi i plessi, che sono quasi 90, a rotazione verranno effettuati dei sopralluoghi. Il lavoro di sensibilizzazione maggiore si sta facendo con i genitori, che spesso non rispettano l'obbligo della mascherina. Per le fermate degli autobus è emerso dal vertice in prefettura, che i problemi maggiori sono stati riscontrati su quelli delle linee extraurbane. Per le fermate degli autobus è emerso dal vertice in prefettura, che i problemi maggiori sono stati riscontrati su quelle linee extraurbane, dove saranno intensificati i controlli in collaborazione con i carabinieri. L'arma effettuerà servizi mirati anche nelle città di partenza, nei confronti della movita serale. Infine i controlli saranno intensificati con particolare attenzione al rispetto del distanziamento sociale nei locali e nel contestuale utilizzo della mascherina.